Musica Associati olivicoltori ben ritrovati alla 32esima edizione del periodico 12 agosto 2022. Nei nostri olivetti oramai le olive hanno raggiunto o superato l'80% delle dimensioni finali, come abbiamo detto la volta scorsa è iniziata anche l'inolizione, ossia si stanno riempendo di olio di grassi all'interno delle cellule delle nostre olive. Le piante sono state anche favorite in questa settimana perché abbiamo avuto delle locali precipitazioni e sono diminuite anche le temperature. Nel nostro periodico vi abbiamo riportato le analisi di tutti questi andamenti climatici in modo da rendervi conto che l'andamento climatico influenza notevolmente anche l'attività di maturazione delle olive, come influenza notevolmente anche l'attività fitosanitaria e di questo per la mosca dell'oliva. Perché se in questa settimana abbiamo ancora voli molto limitati e infestazioni attive date da uova, larve di prima e seconda età, che sono ancora contenute all'1% o 2%, dalla fine della settimana prossima cambierà questa situazione perché è in atto un cambiamento climatico che andrà a diminuire le temperature, ad aumentare l'umidità. Così, se per questa settimana non abbiamo alcun bisogno di attuare alcun intervento fitosanitario, rimanete in allerta, perché alla fine della settimana prossima, seguita il nostro periodico, si avranno delle condizioni in cui con probabilità sarà necessario attuare un intervento fitosanitario. Negli oliveti che sono stati irrigati, invece, la situazione è un po' diversa perché abbiamo riscontrato infestazioni che superano il 2-3% di infestazione attiva con uova, larve di prima e seconda età, non abbiamo trovato ancora larve di terza età, anche perché le condizioni climatiche di elevata temperatura hanno portato a una notevole mortalità da caldo all'interno delle olive. Però, proprio perché in questi oliveti irrigati abbiamo un microclima particolare, è necessario che poniate la massima attenzione. Se avete dei dubbi, chiamateci, chiamate i tecnici, perché saremo a disposizione per darvi e valutare dei consigli appropriati. Chi ha effettuato i trattamenti utilizzando degli imbrattanti caolini ventuniti, oppure hanno effettuato dei trattamenti a base di spinosat, in alcune aree del Triveneto abbiamo avuto delle precipitazioni che hanno superato i 12-15 mm di pioggia. Andate a valutare la copertura perché con molta probabilità sarà necessario attuare un intervento di ricopertura, sia per quello che riguarda gli imbrattanti, ripeto, bentuniti, caolini, zeuliti, sia per quello che riguarda gli attrattivi alimentari a base di spinosine, lo spinosat per capirci meglio. Il dottor Mosè Cavarsana invece ha effettuato un rilievo importante nell'area di Maser e di Caerano San Marco. è andato a rilevare che tra sabato e domenica della settimana scorsa si sono avuti degli sfarfallamenti di margaronia, con molta probabilità la terza generazione è la tignola verde. Anche questa bisogna attuare un'attenta rilevazione se è presente anche dei nostri oliveti. Da considerare però che se alla fine della settimana prossima c'è la necessità di effettuare un intervento fitosanitario contro la mosca dell'olivo, questa andrà ad abbattere, a limitare anche la presenza della margaronia. In alcuni oliveti invece abbiamo visto che c'è presenza di fumagine. In questi casi è necessario effettuare un trattamento fitosanitario con prodotti rameici, proprio per limitare l'imbrattamento sulle olive e sulle foglie. Ricordiamo anche che nel caso in cui si verificassero degli eventi climatici avversi, come delle grandinate, delle forti folate di vento che creano delle micro abrasioni, è necessario intervenire entro le 24, massimo 48 ore, con prodotti rameici proprio come disinfettante per le ferite ricevute. Ora, un nostro associato, il dottor Aimone Alberto, ha richiesto un approfondimento su una materia a lui cara, la sostanza organica, perché ha visto che in un suo appezzamento, dove l'anno scorso ha portato un maggior intervento con sostanza organica, queste piante presentano minor stress idrico. Con la nostra lavagna andremo ora a spiegare e approfondire l'argomento. Nel terreno la sostanza organica è un po' il cuore pulsante. È dato da tutti quei componenti organici, animali e vegetali, che raggiungono il terreno, che vengono gradualmente degradati da miliardi e miliardi di batteri e funghi. Mediamente, nei terreni agrari italiani, la troviamo tra l'1 e il 3%. Nel terreno la sostanza organica si suddivide in due frazioni. La prima è chiamata attiva ed è data da tutti quei componenti animali e vegetali microbici che lavorano assiduamente per mantenerla continuamente in vita, continuando una attività di lenta trasformazione di componenti organici. Invece, la seconda frazione, che viene chiamata stabile, è data dai composti di humus e questi composti di humus sono quelli che danno un'attività di miglioramento alla tessitura e alla struttura del terreno. Lo rendono agrario, ossia adatto alla coltivazione di piante agrarie utilizzate dall'uomo per un'attività successiva agroalimentare. Tutto questo è riportato ampiamente nel periodico. Andiamo a valutare adesso la risposta per il dottor Aimone Alberto. Del perché in un appestamento a Oliveto, dove l'anno scorso ha avuto un apporto di sostanza organica, ora le piante dell'olivo hanno un minor stress idrico. E ipotizziamo che sia un ettaro. E su questo ettaro, l'anno scorso, c'era la presenza dell'1,5% di sostanza organica. C'era anche una presenza di acqua disponibile dello 0,20 in volume. Lo spessore del terreno agrario di questo Oliveto è di 25 cm. Se noi andiamo a moltiplicare 0,20 per 25, otteniamo che su quel terreno c'era la presenza di 5 cm di acqua. Ora, dalla letteratura scientifica sappiamo che un centimetro di acqua presente corrisponde a 100 m3 ad ettaro. Allora noi cosa facciamo? Andiamo a moltiplicare i 5 cm che avevamo per 100 e otteniamo che nel terreno del dottor Aimone Alberto avrebbe avuto una disponibilità di 500 m3 di acqua. Ora il dottor Aimone ha effettuato un apporto di un 1% di sostanza organica. E anche questo, da letteratura scientifica, sappiamo che apportano un 10% in più di acqua. Di acqua che viene trattenuta dal terreno. E perciò, se noi abbiamo 500 m3 ad ettaro di acqua, avremo un 10% in più che corrispondono a 50 m3 di acqua ad ettaro. Bene, le piante del dottor Aimone hanno avuto una maggiore disponibilità di 50 m3 ad acqua ed è per questo che subiscono meno lo stress idrico. Dove si trova l'acqua nel terreno? Il terreno cattura l'acqua in tre modi diversi. Abbiamo un'acqua igroscopica, un'acqua capillare e un'acqua di gravitazione. L'acqua igroscopica è quella che va a creare un velo attorno alle microparticelle del terreno, a delle piccole sferette che formano il terreno agrario stesso. L'acqua, invece, capillare è quella che si posiziona in quei micropori che si formano dall'unione di queste parti solide del terreno e va a posizionarsi proprio in queste piccole aperture. Sia per l'acqua igroscopica sia per quella capillare, la pianta ha una notevole difficoltà nell'andare a recuperarla. Poi abbiamo l'acqua di gravitazione che va a collocarsi in quei macropori o grandi pori che si formano fra l'unione delle parti solide e qui la pianta la assorbe con molta facilità. Nel ringraziarvi per l'ascolto vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.